Ciao a tutti ragazzi, questo è The Lobb, un gioco semplicissimo, è il format proposto dalla Dilago Associazione Sportiva Direttantistica. Allora, il gioco è molto semplice, 10 tiri a disposizione, bisogna fare gol nella seconda porta, quella piccola, quella dietro, con il classico Lobb, quindi il cucchiaio, palonetto, chiamatelo come volete. The Lobb è il gioco dell'estate, tutto il ricavato andrà a sostegno alla ricerca. Chi vuole scoprire più? Sulla nostra pagina The Lobb Facebook. Dove potete trovarci? Allora, sabato questo, ai fuochi di San Giovanni, a Sala Comacina. Settimana prossima, primo luglio, Mara Fibrositona, a Gravedona. Mercoledì, 5 luglio, Piazza Garibaldi, Cantù, mercoledrink. 16 luglio, Panama Beach, Porlezza. 19 luglio, sempre di mercoledì, Piazza Garibaldi, Cantù. E poi ad ogni serata noi selezioneremo i migliori giocatori che porteremo alla finale, il 2 settembre, al Lido di Bellagio per vedere chi è il migliore di tutti della provincia di Como. Ragazzi, il nostro invito è rivolto a tutti. Sappiate che ci divertiamo, bel format, nuovo. E poi soprattutto sosteniamo la ricerca, quindi aiutateci anche voi, eh. Lui è l'uomo da battere, perché l'anno scorso è stato il miglior giocatore. In palio, Primato, mette una divisa tecnica per una squadra di calcio completa. Grazie a Primato, sponsor tecnico che ci ha fornito tutto il materiale. Grazie all'Ariosport, nostro media partner ufficiale.